Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione oggi affronteremo il discorso relativo al ph di una soluzione prima di entrare nel dettaglio andiamo un attimino a rivedere il concetto del prodotto ionico dell'acqua che abbiamo trattato in maniera più approfondita nella precedente lezione sappiamo che l'acqua è un elettrolita molto debole e che ha un bassissimo valore di dissociazione e sappiamo che la sua costante di dissociazione è pari a 25 gradi a 1,0 per 10 alla meno 14 sappiamo anche che all'equilibrio le concentrazioni degli ioni h più sono uguali alle concentrazioni degli ioni o h meno e quindi possiamo scrivere che h più al quadrato è uguale a kv da cui deriva che h più è uguale alla radice di kv che è uguale a 1,0 per 10 alla meno 7 stesso discorso per quanto riguarda gli ioni o h meno e che quindi la concentrazione è uguale sempre alla radice di kv uguale a 1,0 per 10 alla meno 7 ricordiamoci anche inoltre che la variazione della concentrazione o degli ioni h più o degli ioni o h meno non può avvenire indipendentemente uno dall'altro ma che devono queste variazioni soggiacere a questa importantissima relazione che non dobbiamo assolutamente dimenticare detto questo quindi abbiamo detto altra volta che una soluzione si definisce acida quando la concentrazione degli ioni h più è maggiore della concentrazione degli ioni o h meno una soluzione si dice neutra basica quando le due concentrazioni sono uguali e una soluzione si dice basica quando la concentrazione degli ioni h più è minore di quella degli ioni o h meno bene quando parliamo di concentrazioni ci riferiamo a dei valori estremamente piccoli e ci possono essere comunque delle notevoli variazioni di concentrazione quando andiamo per esempio a introdurre un acido o una base in soluzione a modo di esempio diciamo questo se per esempio io in acqua distillata che ha un valore di concentrazione degli ioni o h meno uguale a 1,0 per 10 alla meno 7 vado a inserire per esempio una soluzione di una base forte pari a 1,0 per 10 alla meno 2 e quindi contributo degli ioni o h meno deriva esclusivamente dalla base abbiamo avuto noi una variazione di 100.000 volte ricordiamoci che quindi la variazione da meno 7 a meno 2 quindi una variazione notevole di concentrazione degli ioni o h meno del resto abbiamo avuto una diminuzione di 100.000 volte degli ioni h più per cui quando si va a determinare il valore del ph di una soluzione noi non andiamo a considerare una scala lineare in quanto ci creerebbe grossissimi problemi anche da un punto di vista grafico ma andiamo ad avvalerci di quello che viene un operatore matematico che viene chiamato col termine p questo operatore matematico non è pari che non è pari che al co logaritmo di un valore a cui esso è associato e nel nostro caso questo valore è uguale al meno logaritmo in base 10 di un valore associato per cui quando andiamo a determinare la concentrazione degli ioni h più o degli ioni o h meno andremo ad inserire questo operatore matematico di fronte alla all'idrogeno nel caso in cui dovessimo andare a calcolare il ph la concentrazione degli h più per cui il ph di una soluzione sarà pari almeno logaritmo sempre in base 10 della concentrazione degli ioni h più e che il ph sarà pari almeno logaritmo in base 10 della concentrazione degli ioni h più e che il h meno queste due sono le relazioni fondamentali per andare a definire il ph di una soluzione poi vedremo nelle prossime lezioni che a seconda del tipo di acido o di base che andiamo a considerare questa relazione potrà essere modificata da da questa relazione possiamo anche conoscendo la il valore di ph determinarci la concentrazione degli ioni h più applicando per 1,0 per 10 alla meno ph e la concentrazione degli ioni h meno è uguale a 1,0 per 10 alla meno ph esiste una altra relazione importante che ci permette di tenere uniti i valori di ph e di ph questa relazione dobbiamo assolutamente dimenticarla ma e memorizzarla noi sappiamo che quindi ph di una soluzione è uguale al meno logaritmo della concentrazione degli ioni h più e sappiamo anche che il ph è uguale al meno logaritmo della concentrazione degli ioni oh h meno questo operatore matematico lo possiamo anche andare a inserire di fronte alla kv in quanto è un operatore matematico quindi andando sapendo che kv è uguale alla concentrazione degli ioni oh h meno per la concentrazione degli ioni h più andando a sostituire possiamo scrivere che il meno logaritmo di kv è uguale al meno logaritmo della concentrazione degli ioni oh h meno uguale al meno logaritmo di 1,0 per 10 alla meno quattordici sappiamo che per una proprietà dei logaritmi che il prodotto dei logaritmi parla alla somma delle concentrazioni in questo caso oh h meno e h più pertanto possiamo scrivere che il p kv è uguale al p h più più p o h meno uguale a 14 e quindi la relazione fondamentale quella che troviamo sui testi è la seguente che p h più p o h è uguale a 14 questo è importante in quanto se per esempio conosciamo il p h di una soluzione possiamo andare a definire il p h e viceversa dobbiamo dire una cosa che l'applicazione della concentrazione molare per andare a definire il p h di una soluzione valida soltanto per soluzioni diluite e cioè quando le soluzioni presentano una concentrazione molare che va da 10 alla meno 5 a 10 alla meno 3 è possibile applicare quindi il p h delle concentrazioni molare degli h più o degli oh meno quando questo valore è superiore si applica il concetto di attività che andremo a vedere abbiamo già visto negli equilibri che andremo a vedere nelle applicazioni per la determinazione del p h pertanto andando adesso a vedere questa tabella cosa definiamo il come definiamo il p h quindi p h di una soluzione sarà quindi pari a 7 quindi p h uguale a 7 quindi la soluzione sarà neutra e la concentrazione degli ioni h più è uguale la concentrazione degli ioni o h meno una soluzione si dice acida quando il p h è minore di 7 e il p h è maggiore di 7 e quindi questo caso la concentrazione degli ioni h più è maggiore di 1,0 per 10 alla meno 7 quindi questo lo possiamo andare a vedere in scala quindi per valori 10 alla meno 6 meno 5 meno 4 aumenta la concentrazione degli ioni h più e quindi abbiamo un valore di p h inferiore a 7 gli ioni h meno contestualmente presentano un valore inferiore di 1,0 per 10 alla meno 7 quindi presenterà valori per esempio 10 alla meno 8 meno 9 meno 11 e così discorrente una soluzione si dice basica quando il p h è maggiore di 7 e il p h minore di 7 anche in questo caso gli ioni h più avranno una concentrazione minore di 1,0 per 10 alla meno 7 gli ioni o h meno una concentrazione maggiore di 1,0 per 10 alla meno 7 ricordiamoci quindi che le relazioni fondamentali che non dobbiamo assolutamente scordarci sono le seguenti quindi prodotto ionico dell'acqua quindi la relazione che lega gli ioni h più e degli ioni o h meno come calcoliamo il p h quindi attraverso il meno logaritmo in base 10 degli ioni h più e degli ioni o h meno questa espressione ci permette di determinare per esempio la concentrazione degli ioni h più conoscendo il valore di p h oppure il valore della concentrazione degli ioni a o h meno e quindi conoscendo il valore di p h l'ultima relazione fondamentale è che il valore la somma del p h più p h deve essere pari a 14 bene io ho terminato la lezione le prossime lezioni riguarderanno esercizi applicativi per la determinazione del p h del p h e quindi andremo a considerare acidi e basi forti oppure acidi e basi deboli se vi è piaciuta la lezione iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like alla prossima